Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto il mio carissimo amico Nicola che più o meno mi ha chiesto come ho sviluppato la mia tecnica con la mano destra quindi oggi parliamo di tecnica e soprattutto di mano destra a detta sua perché ho un buon muting e anche a velocità sostenute elevate riesco ad essere pulito, ad avere un suono pulito allora, innanzitutto vorrei farvi riflettere, l'ho già fatto in qualche lezione di anni fa però riprendo volentirissimo l'argomento e su quante possibilità sonore e anche proprio tecniche abbiamo con lo stesso strumento, con gli stessi parametri quindi senza toccare potenziometri, chi ne ha anche di più, in questo caso il Fender Jazz ovviamente ha due volumi dei due pick up e un tono senza toccare niente quante possibilità abbiamo semplicemente, innanzitutto, cambiando, diciamo, tipo di tocco un tocco più leggero darà un timbro non è il termine giusto però ho una sfumatura diversa da un tocco medio, un tocco molto, molto forte già questa è la prima cosa ma soprattutto spostandomi da quasi sul ponte a addirittura posso suonare cosa che a volte faccio sul fretless vedete, a seconda ho anche col pollice senza mai toccare equalizzatori, tono, niente questa è la prima cosa per quanto riguarda la mia tecnica principale però non è l'unica perché se quando suonano il fretless, ad esempio, devo fare delle linee melodiche se le suonassi linee, diciamo, cantabili se le suonassi con la mia tecnica principale non avrebbero lo stesso effetto quindi quando suonano il fretless io molto, molto, molto spesso mi sposto quindi non è che ho una sola tecnica e volevo arrivare anche a questo punto ebbene, secondo me, non dico sapere fare tutto quello che è possibile fare con i bass però avere tre o quattro alternative sia anche perché, ad esempio, come ho detto a mio allievo che lui suona molto in questa posizione e suona una roba molto, molto tosta quindi pesta tanto, come si suol dire ogni tanto gli entrano i dolori ho detto, prova a spostarti ogni tanto ho detto ogni tanto 70 volte comunque, a volte, prova a spostarti più vicino al ponte perché anche questa differenza di posizione dell'avambraccio e tutto quindi della postura può darti quei cinque minuti durante un concerto durante le prove un sollievo al tuo corpo al tuo fisico quindi anche questo può essere non fossilizzatevi a costruire su un solo pick up o in una sola posizione o in un solo modo poi per arrivare per quanto riguarda proprio il la pulizia del suono che ora io ringrazio per i complimenti ma c'è chi eh milioni di bassisti hanno un suono che io mi sogno comunque grazie lo prendo per buona eh io da buon fan di Giacomo ho visto in primis lui usare questa tecnica quindi non posso negare di essermi ispirato principalmente a lui ma ce ne sono tantissimi bassisti che suonano se guardate i vostri diciamo i vostri eroi i vostri miti fate caso come io facevo appunto con Giacomo che fermavo anche facevo i film immagine eh mettevo i video allo 0,1 per per capire proprio come suonasse lui il basso vabbè ma non per dire un giorno di vento lui però per capire come mai avesse appunto quella pulizia del tocco anche quando faceva cose a velocità assurde quindi io in primis mi sono ispirato a lui ma come dicevo prima i miei bassisti di riferimento sono tantissimi quindi cosa faccio per pizzicare io utilizzo esclusivamente queste due c'è anche chi mi ha chiesto anche dei carissimi amici qualche lezione per la tecnica delle tre del pizzicato a tre dita non so nemmeno come si chiama ma mi mi sono rifiutato in modo gentile perché sono non saprei proprio da che parte rifarli detto questo io uso proprio la classica tecnica indice medio che si alterna no? non so fare altro ma con gli anni ho cambiato modo di suonare innanzitutto tanti tanti anni fa io ero un suonatore di precision di quelli incalliti e suonavo esclusivamente cioè per me esisteva solo questa tecnica solo il pick up del precision e qui e non mi muovevo neanche dal pick up quando suonavo anche il sol rimanevo col pollice incorato e questo non mi aiutava certo nella nella pulizia perché a volte mi risuonava quando registravo sentivo mi risuonavano le corde quindi per ovviare anche a questo problema innanzitutto la prima cosa che ho imparato è scendere con il pollice sulla corda di me questo mi fa innanzitutto da appoggio ma soprattutto la posso tenere stoppata quindi non farla risuonare quando suonano le altre corde c'è anche chi si spinge scendendo anche su là quando suona raise all quelle sono scelte raramente lo faccio quindi la mia tecnica facciamo una scala lentamente è questa vedete quindi cosa ho fatto ho usato le prime due note o tre nella scala di si bemolle tenendo il pollice sul pick up appena vado sulla corda di la in automatico ormai non ci penso veramente più mi va da solo la mano il pollice scende senza fare troppa forza semplicemente come lo tenete sul pick up lo potete tenere sulla corda di me che in quel punto diventa un ottimo appoggio anche a velocità elevate poi se inizialmente vi state approcciando la tecnica partite lentamente e fate caso a tutto quello che fa parte del reparto tecnico quindi alternanza delle dita piano piano a far diventare appunto un meccanismo automatico questa discesa del pollice che all'inizio ci dovrete pensare se siete quelli che stanno col pollice non è immediato ecco la cosa poi piano piano anche a velocità più elevate vi verrà appunto automatico avrete meno vibrazioni meno risonanze delle corde ecco per quanto riguarda un'altra cosa ancora per la pulizia del tocco io qualche anno fa come dicevo prima anulare il migno era una mano destra per me potevano venire anche nella musica tolte perché non mi servivano a niente poi ho scoperto che posso utilizzarle soprattutto l'anulare come vedete non le tengo così come facevo quando ero giovane quindi 40 anni fa che si suonavo così insomma un po' così le tenevo proprio in questo modo ora le tengo così cosa succede? che soprattutto con l'anulare quando io suono ad esempio sol o anche re anche l'anulare lo tengo appoggiato sulla corda quindi sulla corda prima se sol lo tengo sul re mi fa sia da appoggio quindi ho ancora una presa migliore della mano sia appunto da diciamo da stoppatura della corda quindi io quando suono solo non ho più problemi di risonanza involontaria perché ho tutte le corde ferme col mini o addirittura non sempre ma a volte facendoci caso e poi ripeto diventa tutto automatico non fai più caso a queste cose col mini lo tengo fermo là il pole ce l'ho su di me quindi io suono solo tranquillamente per sviluppare la velocità io come ho sempre detto non ho questa grande velocità però più state sul basso più suonate e più anche questo più siete rilassati soprattutto perché finché non trovate la vostra postura ne parlavo con un allievo a lezione finché non trovi la tua postura in cui sei totalmente in simbiosi proprio col basso sarà difficile anche avere una raggiungere una velocità molto elevata soprattutto per i generi che suona lui quindi lavora sulla postura devi trovare il basso devi diventare un un tutt'uno col tuo corpo quindi trovare la postura e poi suonare 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 scale a a a a a a a a a Grazie a tutti. Terzine, per farci vedere l'unico dell'ultimo video. Button, terze, seste, quarte. L'importante è essere sempre rilassati. Questo è quanto. Quindi, sfruttate tutta la tastiera, certo, scusate tutto il corpo del basso, se vi galba suonare qui, suonate qui, avrete un diverso contatto con la corda. Anche il tipo di corde stesso, io ad esempio l'ho mai trovato da anni, da molti anni, le rotosound. Non mi muovo da qui, nemmeno se me le offrono gratis, perché ho un feeling che non ho mai trovato in altre corde. Quindi la durezza, la durata, proprio il tipo di feeling che ho al contatto con la corda stessa, che è diverso da tutte le altre corde, con lo stesso spessore. Lo spessore, eccetera, eccetera, eccetera. In più, provatelo tutto. Il basso deve essere... Lo dovete conoscere proprio tutto. Se vi piace suonare qui... Ora esagero, però... Suonate qui, non ci sono regole. Se vi piace suonare così... Va bene anche questo, purché vi sentiate in simbiosi con il vostro strumento. Ecco, spero di aver risposto alle domande. Ripeto, non è che ho una tecnica sola, ma la principale ovviamente è questa. Però quando suono il fretes, se guardate anche i miei video, secondo quello che devo fare faccio tanti spostamenti. Anche proprio all'interno della stessa canzone, su una parte magari più ritmata, più, diciamo, funk, sto nella mia posizione abituale. Ma se faccio una linea melodica... Avrà tutto un altro effetto spostandomi più vicino al manico. Quindi ragazzi, oggi lezione totalmente tecnica. Vi invito a lasciare sempre sotto ad ogni video le vostre richieste. Vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video.